Il suo nome sull'elbo d'oro, Faniele Iobbe! La tredicesima mezza maratona delle due perle ha incoronato vincitore l'atleta del team Venice Marathon Faniele Iobbe. Una conferma per il corridore Eritreo, Veneto di adozione, che ha effettuato il suggestivo percorso tra Santa Margherita Ligure e Portofino in un'ora 5 minuti 18 secondi. Appena 33 secondi in meno rispetto al secondo classificato irwandese premier Manira Fasa. Il terzo gradino del podio è andato a Elme di Mahamari, portacolori del running team di Genova. Anche in campo femminile una gradita conferma con la vittoria di Emma Quaglia della Cambiaso Risso, che ha concluso il tragitto in un'ora 15 minuti 14 secondi, precedendo la ruandese Clementine Mukandanga e terza classificata Romina Casetta. L'edizione 2018 della gara si conclude con la soddisfazione degli organizzatori. Noi siamo soddisfatti quando vediamo arrivare i partecipanti con il sorriso sulla bocca, tantissimi ci hanno fatto i complimenti, perché ovviamente il percorso è fantastico, si parte da Santa Margherita Ligure davanti al Lido, si percorre tutta la provinciale che collega appunto Santa Margherita con Portofino, passando da Paraggi, dalla Cervara, il giro di Boa è in piazzetta, quindi il percorso rimane tra il mare e il verde del monte di Portofino. Al valore degli atleti partecipanti, la manifestazione podistica di metà inverno vanta numeri di tutto rispetto, con 1600 partecipanti alla mezza maratona, un migliaio ai nastri di partenza della Portofino Run e della Family Run disputata alla vigilia. Vengono anche lì atleti da diverse regioni italiane, in modo particolare dal nord Italia, quindi dalla Lombardia, dal Piemonte e dalla Val d'Aosta. Anche per Santa Margherita è una manifestazione importante, perché in un periodo di bassa stagione riusciamo a portare circa 3000 persone, quindi a riempire gli alberghi, a far lavorare i ristoranti, il commercio, e quindi è una possibilità per Santa Margherita e per il circondario di creare anche un po' di lavoro.